Attenzione perché questo video testimonia alla distruzione di un'amicizia Perché non mi tiri? Sai cosa ti tiro brutto le c***o? Vai ragazzi come si gioca questo gioco? Non lo so Allora è tipo only up Mi posso tirare? Penso che sto gioco mi farebbe sclerare il marocchino poi sarei pusciata Ok che ho Se tipo mi butto Se tipo mi butto Voi mi riprendete? Marche che idea di m***a però posso dirlo Marche si è incassato sotto l'ascensore però Vabbè tu tira più o tira il niente Eccolo Raga ci dobbiamo sincronizzare Allora quale strada? Destro o sinistro? Non andare prima Tutto in una botta Chi è il primo a cadere e a far cadere gli altri? Marche Ma dobbiamo parlare qua con il signore Marche Siamo anche nel tutto più facile Ok 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 Tutto dritti Oddio 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 Marche che cade Cosa è sta roba? Non lo so ma tu non la fai Mi butta subito a destra o a sinistra dipende dove Oddio No ragazzi Cut cut Vieni qua Fai del paolo Fai del paolo Via via No Marche sei del mio Perché siamo qui? Possiamo farcela Aiuto Non me l'ha aspettato No 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 Catt fai Eravamo arrivati Catt cosa ho fatto? Ora eravamo arrivati Mamma mia ragazzi Ero sopra il coso Catt cosa fa? Mi tira Stasera madonna litighiamo Ti giuro ti mando una quale Quando c'è un trampolino Avvisa Evasore fiscale? Ma? Chi è evasore fiscale? Scusi 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 Lei chi sarebbe? Scusi Andiamo Grandissima cut Che non mette la password No no evasore A destra A destra No No Mi tirate però Mi sa un motto di qualcosa troll No mi tirate Io devo sapere chi è evasore fiscale Quello è il nome su Steam poi Se uno su Steam si chiama evasore Va bene Ma vai corri corri ce l'abbiamo fatta Ma chi è che continua a cadere? Boh Mark ha la peculiarità di andare più lento degli altri Non capisco Ma so c***o C'è proprio da dire Mark è un disastro ragazzi Scemi Ah 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 Ti chi ha tocchiato il coso? Il nessuno Mamma mia Mark vieni Ma tirate Tirate il vasore fiscale Oddio Ciao Lorina Aiuto Ma perché siamo accesi? Facciamo un origami Esgosky Esgosky è così che si fa Andiamo In qui ok Ma vedi la corda Oddio Mi sa che tocca Avendo i piedi No Ma mi sa che la tocca me la levo per non si vederà Guarda Evasore Il bene ritornato Mi fare piano Provai mi raccomando Ragazzi fermi fermi Calmi No ragazzi Salta salta Rompi che di cavolo Ok vai tira tira Allora fermi Evasore Stavo cadendo pure io Basta adesso facciamo direttamente il salto vai oh cat non ce la fa eh fermi tirate non mettete in quei rovi lì non cliccate spazio vai vai fermi oh cacchio oh mio dio sono bibolo dai siano però siano Mark non cadere che tu ti piace cadere destra a destra a destra no ragazzi non guardate giù calmi uno alla volta bravi non riesco a salire ah ah non mi tirate fammi non posso salire non posso descendere per salire allora raga aspetta 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 hai mai visto dove dobbiamo andare prima eh sì seguitemi voi seguitemi maggio a voi il senso di orientamento da marocchino ok io non mi perdo no non mi perdo cut cut cosa fai sbrigati cannaggia vicino vede essere vai 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 ma dai le indicazioni no no poi mi seguire basta io vi ricordo scusi anche la fila dal check-in cazzo non salta po' indietro stai zitto cazzo cadi qua ti vedo eh cazzo fermo fermo non sentai mi devo asciugare le mani raga guardate davanti a me proprio sto diventando laggiù nell'orizzonte cavolo è quel cosa bruttissima corcata perché Marco venga a testo pronti? mia 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 scoschi corre 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 mannaggia a Mark fermi fermi oh che forza che c'ho il baciino guarda Mark sta ancora volendo dobbiamo stare attaccati fermi fermi corri che sai com'è fermi mi attacco vai 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 corri 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 ok vai vai non ce n'è più qua aspetta aspetta controlla che non ci siamo non c'è nulla non c'è nulla l'ho visti l'ho visto dai ho dato lo stesso male no no siamo morti oddio ti ho paura arriva 3 2 1 vai oh cacchio vai fermi 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 vai 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 fate la R vai allora sentiamo di qua cosa succede che moriamo cosa succede dobbiamo stare via via veloci 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 a quel baratto con la precisione piano piano vai 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 saltate 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 corri 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 mamma mia mamma mia perché non saltate la riproviamo però focus atissimi ma nel menu non c'è il tasto per il check point però fermi dovete usare il check point quando state cadendo l'homo sapien più scombinato di tutti gli homo sapiens guardalo guardalo stortus oddio no di nuovo allora fermi scusate posso provare una cosa vai goto goto seguiti la seguita veloci veloci corri corri salta corri corri ma io stavo leggendo la chart ragazzi non tutti non tutti insieme solo uno perché vai prova Mark marco tieniti per favore marco tieniti come se si è capito come quello ok ok ci siamo ci siamo siamo mollo mollo molla molla di qua c'è un trattore ho la mia auto ecco dove era devo guidare io cazzo vuoi guidare tu ok via ragazzi stai guidando welcome to the addomino airlines we are today best we are buco ciao buco ciao buco oddio moriremo welcome to your destination have fun grazie fermi fermi questo cosa si muove e gira quindi ogni tot dobbiamo saltare 1 2 si ogni 2 secondi si gira tu salta e basta non fare queste cose matematiche vedi che la tua matematica non serve a nulla salta 1 2 salta 1 2 salta guarda la tua matematica del cavolo vai tanto almeno io ho capito il gioco dobbiamo salire su sta cosa 3 1 via sempre lui che conta le tua matematica veloci veloci tutto in una volta tutta la mia volta destra destra cascate mamma mia quanto sei pesante vai via via nam 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 via fermi fermi che cos'è quella roba ragazzi dobbiamo andare qua sopra comunque aiuto ma perché che ti fa aiuto fermi fermi aiuto via 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 è un forlano è diventato vai ok cosa è sta roba non lo so fermi 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 dobbiamo fare scossare un timer ok via via corri corri 1 feroci ragazzi il trick è di non scavalcarle state un po' più indietro della scala vai corri ma ma mia ma mia 3 1 vai via ma perché così ci pregano stacca c'era un là sembra uncharted ragazzi possiamo fare il bagnetto evviva ah ci sta un altro pulsante non è che dobbiamo accendere anche l'altro che cosa c'è laggiù ma c'erano delle corna ah lì ah niente è un ahhh uno dei collezionati forlonger glinding ok vuol dire che praticamente mentre stiamo cadendo cadiamo un più lenti adesso no raga andiamo ad accendere l'altro pulsante è il moco ce ne stanno 200.000 di pulsanti oh venite qua dobbiamo scavalcarle vabbè c'è un altro caccato aspetta che c'era questo scemo non ti tiro un pugno ti tiro ok si è aperto è aperto è aperto è aperto fermi fermi ok dai non l'ho visto mi sto dicendo io fermi fermo ma in che posizione di parto siamo è il ginecologo attenti qua no no poi mi dite che non sono il più forte veramente se no le riesci ad abbassare un po' la cambo così si vedono i metri in line ok non ci fermiamo o l'abbasso attenti 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 3,2,1 salta zitti mamma mia vi stavo salvando vi stavo colpa mia zitto zitto dove siamo dove siamo perché cazzo non ci sto fermo tu cazzo mamma mia mamma mia io veramente ragazzi ti spiace per il tuo futuro marito veramente mamma mia non faccio un cavolo non faccio un cavolo zio tirami 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 a tira via no 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 non farle urlare corrette ma siete delle pecore oh madonna poi se cadiamo a non ti alimentare abbiamo fatto l'importante è non lanciare la bottiglia raul vado su guarda cosa ma gioca come devi giocare sicuro che di qua Stiamo persi Ma dai il fatto che adensi è detto perché la prea anche in vita reale Mi ha mandato una macumba il mio primo genito e non ritrova la tutta la strada E mo come ci vado? Due da una parte e uno dall'altra così la catena vi mantiene sopra Kat lanciati vieni qua brava Ma perché perché? Uno deve stare giù Vado io giù, sono abituato, sono abituato a stare giù Tira mi tira, vieni Kat, Kat vieni però, cammina sul tronco Adesso Mark sali dall'altra parte però Ma perché? Oh ma buttati Mark rimani Buttati Kat, buttati Per una volta che si deve buttare non si butta Let's go, vai di nuovo, vai Ma perché salti, tira Kat, tira Non mi fai fare Lanciati dall'altra, fai qualcosa, cammina, cammina, brava, brava, continuo Ma mi tira di su che mi sento male Ok ferma, oh ferma, vuol dire ferma Mutati che ti ho portato su perché tra poco ti giuro che ti insurdo così forte che mi blocchi ovunque Se ne ha fatto un miracolo Ma volete camminare di qua? Let's go! Attenzione qua, attenta, attenta Oh si stava lanciando proprio sul laser Oh ma vuoi salire, vuoi cliccare spazio? No mi piace stare qui Secondo me è un santino troppo, voi lo vedete passare Vai 3, 2, 1, let's go! Adam! Adam! No! Salta, salta! No ragazzi No, 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 vado lì Vado, 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 vado Uuuuuh Uuuuh Sam, vado, 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 vado Sam, vado, vado, vado 3, 2, 1, si, vai Piano, piano Oh, porco schifo, chi è stato? Cavolo, ecco, non... Cosa fai? Ecco, non avevo capito che c'era l'aerroco Uuuuh Alza, calza, spazio! Non va, vedo che c'è qui, cos'è qui, cos'è qui, cos'è qui? Ria via, ria via Vai senza Mark, che meglio Ma come è senza Mark che è meglio? Mi posso... si può lanciare questa catena? Voglio andare da sola Perché salti quando arrivo al laser? Ma come sei salvata? Uuuuh Basta? Basta di... Anche io solo hai via Non era necessario